Ciao a tutti amicici, sì lo so, arrivo anche oggi con l'ultimo binario e sì lo so, in genere non parlo neanche di programmi, film del cinema, programmi tv, fumetti, però in generale sto cercando di allargare quelli che sono gli argomenti di cui parlo, tutte quelle che sono le mie passioni e sinceramente vi devo dire che c'è, così come settimana scorsa vi parlai di Pandavision e spero che qualcuno di voi abbia approfittato del mio suggerimento per iscriversi a Disney Plus e per valutare un po' queste serie che finora lo dico proprio sta spaccando di brutto, eccezionale. Allora oggi vi parlerò di quello che è il final trailer che è stato rilasciato domenica pomeriggio riguardante la Snyder Cut di Justice League. Facciamo prima un pochettino d'ordine, non so se qualcuno di voi sciagurato come me nel 2017 è andato al cinema a vedere questa specie di brutta copia degli Avengers fatta con i supereroi della DC Comics Justice League, un film che fu accreditato al regista Snyder o Snyder, non capirò mai qual è la pronuncia giusta, che in realtà era poi stato sostituito poiché si è scoperto in seguito che aveva perso la figlia per una serie di problemi personali, quindi non era più riuscito a completare il lavoro. Il lavoro fu finito dal regista effettivamente del primo Avengers, nonché di Buffy, Joss Whedon. Però diciamo che c'era già una genesi travagliata, arrivò in corsa, ci mise una serie, quello che era il suo spirito era come un vecchio abito in bianco e nero, visto i toni cupi di Snyder o Snyder, e poi arrivi tu, Sarto, e invece di rattopparlo, mettendoci delle cose che si vedono di meno, ci metti un sacco di toppe colorate, tutte con i colori del Carnevale di Rio, e a proposito, buon Carnevale a tutti, oggi è l'ultimo di Carnevale. E quindi, insomma, si trovava un qualcosa senza capo né coda, veramente una pisciata clamorosa di un'ora e mezzo, in cui sostanzialmente si è accreditata, ripeto, a Zack Snyder, e dove c'era? Superman con i baffi cancellati a computer malamente, tutta la gente che ripeteva ad Aquaman 3-4 volte nel film, ma tu sei Aquaman quello che parla coi pesci, e abbiamo capito che parla col pesce, però e ora c'è dei lotti coglioni che questo parla coi pesci, tutta una serie di cose terribili, terribili, e quindi venne una pisciata clamorosa. Fu anche un insuccesso a fronte di 300 milioni di budget, io non so se è arrivato a coprire le spese, penso che no. Però è successo poi, quindi noi parliamo del 2017, dopo un paio d'anni il regista accreditato, Snyder, se ne uscì con questa frase, a effetto, dicendo comunque questo film non era quello che avevo pensato io, questa è tutt'altra cosa, non c'entra niente. A quel punto si è, diciamo, aperta e si è messa in moto tutta quella che è la fanbase di Snyder. Allora, attraverso una serie incredibile di rumors e anche di richieste, addirittura si è parlato di creare quella che viene definita Snyder Cut, cioè di restaurare la versione originale. Sarebbe troppo lungo adesso andare a fare tutto quelle che sono state il resto delle tappe, vi posso solo dire che il regista aveva avuto inizialmente 5 milioni di dollari di budget per finire giusto la computer grafica. Poi addirittura si era pensato di farne una miniserie da 4 puntate di un'ora circa l'una. Dopodiché, viste anche le difficoltà tra il direttore esecutivo del Warner attualmente e Snyder, che ha definito praticamente in maniera abbastanza bruttina questa Snyder Cut uno storytelling cul-de-sac, quindi una storia fine a se stessa che non porta da nessuna parte, che devo dire è brava Warner a vendere così i tuoi prodotti, brava davvero. E quindi diciamo che si è passati ad una sola proiezione, un solo diciamo film, della durata di 4 ore, da che la parte originale era di un'ora e mezzo, quindi hanno aggiunto due ore e mezzo di contenuti, contenuti totalmente nuovi, alcuni in computer grafica, altri invece riprendendo i vari attori, andando a girare tutta una serie di cose, anche perché vi ripeto quel film era veramente pessimo e inguardabile, con Aquaman che parlava con i pesci, poi c'era Cyborg che era un cazzone, Batman con quella scenetta indegna insieme a Flash, dove Flash gli chiedeva a tu che superpotere Shai è un imbolsito Batman di... fatto da Ben Affleck, quindi il Batfleck, se lo vogliamo definire così, rispondeva ma io ho i soldi e quindi vabbè, però è una speranza anche per tutti noi che un giorno se facciamo un banco di soldi possiamo essere anche noi supereroi, però a parte queste cacate, insomma, fesserie, indegno, indegno e schifoso. Ora si sono susseguiti tutta una serie di trailer, alcuni quest'estate, veramente pietosi. Nel frattempo, ve l'ho detto, il budget è salito a 80 milioni di dollari, quindi adesso davvero che si aggiungono a quelli che già erano stati spesi per la prima parte delle riprese, comprese anche scene tagliate evidentemente da Whedon, che ultimamente anche con le accuse di... non mi ricordo se è stato accusato di stupro o di essere uno stronzo, o probabilmente di essere uno stronzo stupratore, o di essere un scolapasta, strunz, scoladipendente, e però non sta passando un bel momento il regista di Buffy ultimamente. Però, però, diciamo che il trailer è stato programmato domenica, ci porta una serie di novità, innanzitutto sappiamo che il film uscirà in America ufficialmente a una data, il 18 di marzo. A differenza degli spot precedenti dove si vedeva veramente poco, ce n'era uno quest'estate con una versione abbastanza anemia di Alleluia e di Leonard Cohen e della computer grafica veramente grezza, adesso, sebbene io ritengo che ci possa essere un miglioramento ancora fino all'ultimo della computer grafica, adesso abbiamo questo final trailer che è stato anche trasmesso durante il Super Bowl, se ricordo bene, e che ci porta tutta una serie di interessanti sorprese. Possiamo dire, ad esempio, che innanzitutto questa volta sono presenti, è presente anche non soltanto il personaggio di Steppenwolf, ma sono presenti tutti quelli che erano le... scusate, una chiamata di lavoro, vediamocelo va, da qui non dovrebbe darci problemi di copyright, vediamo se è parte, ok, questo è il buon Superman, come vedete c'ha questa... leto, HBO Max da noi non c'è, sappiamo soltanto che potrebbe uscire in America, uscirà il 18 marzo, dobbiamo vedere da noi, io non vi nascondo che dopo un trailer del genere mi è salito un hype pauroso, nonostante mi stavo addormentando nel 2017 cinema. Vabbè, questo è più o meno il trailer, anzi no, più o meno l'abbiamo visto, adesso facciamo qualche considerazione. Dunque, il trailer l'abbiamo visto, adesso dobbiamo fare qualche riflessione. Innanzitutto, finalmente abbiamo visto anche quella che è l'apparizione di Darkseid. Darkseid è uno dei più potenti nemici del universo, dei più potenti, diciamo, cattivi dell'universo DC Comics. Nel primo film vi era questa stranezza, probabilmente si pensava, si vociferava, di fare inizialmente due o tre film. Poi il progetto era stato cassato per le vicissitudini personali, per cui vi era soltanto la presenza di Steppenwolf, che doveva essere parente di Darkseid. Darkseid sostanzialmente è il personaggio da cui la Marvel, pare, abbia preso spunto per creare Thanos. Quindi adesso potete cominciare a capire quanto è importante la presenza di questo personaggino qui. C'è tutta una serie dei nuovi dei, tutti cattivi ovviamente, di quella che è il pantheon di divinità cattive della DC Comics. E anche Steppenwolf è meno umanizzato rispetto alla versione originale, sembra più una bestia quale che sia. Però, ripeto, importantissima la presenza di Darkseid. I toni che avete visto sono tutti cupi, sembra essere davvero meraviglioso, sembra essere davvero interessante. Dobbiamo sperare che esca anche da noi il 18 marzo e magari direttamente sui nostri servizi di streaming, come Google Play, Movies, come iTunes. Del resto, Wonder Woman 84, che era uscito inizialmente su HBO Max negli Stati Uniti il giorno di Natale, è uscito da noi adesso direttamente in un video. Speriamo che non ci sia nulla del genere, cioè non ci sia un'attesa come quella di Wonder Woman, che poi detto fra di noi faceva anche abbastanza cagare. Perché io quando ho visto questo Joker qui fatto da Leto, assomiglia un po' al Corvo, diciamocelo. Poi dice questa strana frase, se avete sentito, We live in a society, che ormai è diventato praticamente un meme sulla rete. Non so dove vogliono andare a parare. Non so se sia una interpretazione di qualche minuto, giusto un cameo, o se Snyder abbia voluto dare a Jared Leto l'occasione di essere un vero Joker, come sono stati le precedenti interpretazioni. Quella di Joaquin Phoenix e anche quella del Batman, dei film di Nolan, effettivamente sono state eccezionali. È particolare questa frase, We live in a society, perché è una frase che veniva utilizzata dal Batman di Joaquin Phoenix. Nell'aspetto ve l'ho detto, ricordo un pochettino il Corvo, però è secondo me interessante. Io lo tengo d'occhio. Se vi fidate di me, io vi dico, dateci un'occhiatina. Quando sarà il 18 marzo, giù di lì, vedete se è uscito un film del genere. Io mi rendo conto che quattro ore sono un po' pesanti, però magari potrebbe uscirne davvero qualcosa di buono stavolta. Anche perché, onestamente, Zack Snyder si gioca il tutto per tutto. È tutto lì. Cioè, ha detto che il film del 2017 faceva schifo, perché non era quello che aveva pensato lui. Il film faceva schifo, davvero. Però adesso mi deve fare un cazzo di capolavoro. Io mi fido. Ciao a tutti.